Ti si avvicina una persona che all'inizio sembra fuori di testa, ma comincia a parlarti e nelle sue parole trovi conforto. Sei d'accordo con ciò che dice e dopo una chiacchierata ritrovi la speranza. Sembra che abbia le risposte ad ogni tuo dubbio e la soluzione ad ogni tuo problema. Così decidi di seguirla. Non puoi sapere che seguendo questa persona hai condannato la tua stessa vita. Ecco questo è ciò che è accaduto ai seguaci di Hunt Hill Kids. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi perché questo culto è davvero terribile. Quindi iniziamo subito ad indagare sul file di oggi. Prima di cominciare però vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video come questa, guardate che figata, che potenza. Questa maglietta emana potenza. No comunque trovate tutte le magliette che indosso nei video e inserendo il codice sconto a Andrew, ricordatevelo, vi daranno anche delle calze a scelta in omaggio. Detto questo, mettiamoci comodi ragazzi perché, mio Dio, parlare di sette non è mai facile perché spesso e volentieri si tratta di storie davvero pesanti e cruente. Tempo fa vi avevo già raccontato delle bestie di Satana, vi metto il link in alto nelle schede, ma la setta di cui voglio parlarvi oggi è davvero peggiore. Credo sia stata una delle più violente nella storia, si chiama The Hunt Hill Kids, che possiamo tradurre con i bambini del formicaio. Già il nome farà brividire, e sì, parliamo di bambini in una setta. Quindi veramente preparatevi perché non sarà un video leggero, ci stiamo prendendo gusto ormai a fare video così crudi, deve cambiare sta cosa, cazzo. Tutto parte da un singolo uomo, Roche Terio. Roche nasce nel 1947 nella Saguenay Valley del Quebec. Ci troviamo in Canada. I suoi genitori sono Yashint e Pierrette Terio. Non credo di averli pronunciati bene, in ogni caso vi lascio i nomi scritti da qualche parte. Comunque le informazioni sul passato di Roche hanno molte, molte lacune. In certi punti addirittura troviamo informazioni discordanti, e tutto questo a causa di diverse testimonianze. Per esempio, Roche dice che da piccolo ha subito abusi intimi da parte di suo padre. Ma quest'ultimo, il signor Terio, smentisce ogni cosa. Grazie, anche se fosse colpevole non credo che lo direbbe così tranquillamente. Comunque al di là di questo, Roche è un bambino molto sveglio, intelligente e curioso. Col passare del tempo sviluppa una certa propensione al dialogo. Impara come farsi ascoltare, anzi sa quasi incantare le persone con i suoi discorsi. Ed è una qualità non da poco. Può essere una cosa molto positiva se usata a fin di bene, ma è al tempo stesso una qualità che molti leader di culti hanno in comune. Un qualcosa che permette loro di sembrare affidabili e di avere sempre ragione. È qualcosa che se usato in modo sbagliato, può portare grande distruzione e tragedie. Roche, tralasciando questa piccola parentesi, cresce con un'educazione cattolica. Ma si appassiona in maniera direi morbosa all'Antico Testamento della Bibbia, e specialmente all'Apocalisse. Vorrei soffermarmi un attimo su questo punto e farvi notare una cosa. Roche adora queste due, chiamiamole sezioni della Bibbia, e sono sezioni molto violente e cupe. Praticamente salta tutta la parte di Gesù in cui si parla della bontà di Dio, del fatto che ama tutti senza distinzioni, e quindi inizia a vedere Dio come una creatura onnipotente che punisce e distrugge. E non è un dettaglio da sottovalutare. Vedrete che questa cosa ritornerà dopo, purtroppo. Roche, infatti, inizia a pensare in maniera ossessiva a queste cose, e non è di sicuro una cosa sana. Rimane credente, ma si focalizza solo sulla parte violenta della Bibbia, e i cristiani all'ascolto spero mi confermino questa cosa, cioè la Bibbia non è solo quello, non è solo distruzione, apocalisse, peccati e punizione. Ma comunque Roche, a un certo punto della sua vita, abbandona la scuola e si fa un'idea tutta sua delle sacre scritture. Arriva quindi a cambiare il ramo religioso, ed entra a far parte della chiesa avventista del settimo giorno. E non ricordo quando, ma abbiamo già parlato di un criminale iscritto a questa chiesa. Voi per caso vi ricordate in che video ne abbiamo parlato? Forse in quello di Evansgate? Non ricordo. Se vi viene in mente, ditemelo perché è un dettaglio davvero interessante. Cioè, fa riflettere, no? Tornando a noi, Roche si fa strada in questa chiesa, o meglio lo chiamerei culto, ma non viene visto di buon occhio. Si spaccia per un profeta, un predicatore che va contro determinate dottrine. In sostanza, rompe le scatole agli altri fedeli, starà parlando delle sue teorie, e arrivando al punto di essere davvero molesto e anche troppo pretenzioso. Sotto sotto, lui spera di arrivare ai piani alti di questa chiesa, ma diciamo che addirittura i fedeli con lui hanno perso in fretta la pazienza. Per questo lo cacciano fuori dalla chiesa avventista del settimo giorno, ma conoscendo ormai il tipo, non si ferma di certo. E anzi, continua a predicare altrove. Una fonte racconta di come Roche facesse queste sue prediche folli in giro per la città. Praticamente va per altre chiese, bar, piazze e centri d'aggregazione per parlare a ruota libera. Come detto prima, è bravo ad incantare i suoi interlocutori. Sa scegliere i modi e le persone con cui chiacchierare. In base alle persone con cui parla, sceglie argomenti specifici. Nel senso che se becca una persona frustrata al bar, magari delusa per la vita che conduce, lui gli parla in modo da non fargli avere più preoccupazioni. Di risolvere tutti i suoi problemi. In questo periodo racconta spesso di voler radunare un gruppo di eletti, suoi seguaci, e di voler creare una comunità lontana dalla vita frenetica delle città. Vuole stabilirsi con loro in un luogo dove tutti si sarebbero dati una mano, senza più alcun tipo di preoccupazione terrena. Una sorta di paradiso terrestre, in cui stare in pace l'un con l'altro. E già questa idea vi farà notare un ulteriore campanello d'allarme. Ma nonostante questo, messa su questo piano, e dato che siamo negli anni settanta, è una proposta che fa gola a molti. Siamo negli anni in cui la cultura hippie sta spopolando. Quindi, forse, seguire Roche e le sue idee non è poi così male. Ovviamente c'è chi lo allontana o addirittura lo insulta, perché lo ritiene un pazzo fuori di testa. Ma purtroppo sempre più persone iniziano a credergli, iniziano a cascarci e a farsi manipolare. Anche perché lui, da bravo manipolatore, riesce a toccare i punti giusti. Cioè, è in grado di spiegare con successo i benefici della sua religione anche alle persone atee. Anzi, è proprio in grado di riconvertire le persone. Non sottovalutiamo mai la potenza del linguaggio, ragazzi, perché è facile dire «Vabbè, io non l'avrei mai ascoltato». Però in realtà è altrettanto facile essere manipolati da persone così. Nessuno è immune a queste cose. Lui poi è bravissimo anche nel selezionare le persone giuste, quelle più fragili, con niente da perdere o così malleabili da cascare facilmente ai suoi piedi. Dentro la sua testa c'è una voglia di protagonismo estrema. Ma crede sul serio nelle cose che dice, cioè non mente a se stesso. È davvero convinto di alcune cose particolari. Per esempio, crede di essere solo lui l'unico degno di portare la parola di Dio. Pensa di essere il suo vero portavoce. Il vero messia è l'unica persona in grado di purificare la gente prima della fine del mondo. Perché sì, è uno di quelli che è convinto che il mondo finirà a breve. Altro campanello d'allarme, ragazzi. Tutte le cose di cui abbiamo parlato finora sono spesso presenti in culti che si sono rivelati pericolosi o addirittura mortali. Per cui se qualcuno si avvicina a voi e vuole arrolarvi in qualche gruppo che predica queste cose, state molto attenti. Ma comunque, nello specifico, Roche, e nessuno sa il perché, è sicurissimo che il mondo sarebbe finito nel febbraio del 1979. A questo punto però ha già raggruppato un piccolo gruppo di persone. Per la precisione ha raccolto a sé quattro uomini, nove donne e quattro bambini. Tutti loro, compreso Roche ovviamente, realizzano infine il suo sogno. Si stabiliscono in un posto sperduto che lui stesso chiamerà Montagna Eterna. Questo luogo si trova al villaggio Gaspé di Saint-Jog. E qui lui, il dio della setta, inizia a spiegare agli adepti come purificarsi nell'attesa dell'imminente fine del mondo. Queste persone sono convinte di quello che dice. Infatti hanno abbandonato letteralmente tutto per seguirlo. Nel posto in cui hanno scelto di vivere non c'è nulla. Infatti devono costruire dei rifugi di fortuna. E sono obbligati a campare a malapena. Sappiamo che lì iniziano a produrre cibi semplici e pescare del pesce da rivendere nei paesi vicini. In questo modo possono comunque mantenersi in vita. E diciamo che i principi di questa setta all'inizio sono molto semplici e quasi condivisibili. Si basano sul vivere in una comunità unita e in uguaglianza. Nonché sull'essere liberi dal peccato distaccandosi dalle banalità terrene. È il principio di molte religioni e anche rami del cattolicesimo. Ma il punto è che in questo caso si deve seguire lui, Roche. Lui deve essere il perno, il centro di tutto. Il capo indiscusso a cui non dover mai fare un torto. Le sue manie di grandezza a questo punto sono elevatissime. E il suo ego non conosce pari. Per quanto gentile è disponibile, col passare del tempo diventa sempre più pretenzioso. E tutto questo messo insieme costituisce l'inizio di una vicenda ai limiti della realtà. Le cose da questo punto in poi vanno sempre peggio. La setta ormai è confermata, ma non ha ancora il nome che tutti conoscono. Devono succedere tante cose terribili per arrivare a quel nome. Roche intanto continua a manipolare queste povere persone, spacciandosi più come una divinità che come portavoce di Dio. Fa credere a tutti che è il solo in grado di predire l'apocalisse. E fa sentire queste persone come degli eletti. Come se fossero privilegiati perché sono lì con lui. E sta qui la manipolazione. Una manipolazione che non fa vedere a queste persone tutto il marcio dietro il volto amorevole di Roche. Come detto prima, lui è convinto di quello che dice. E ok, ha mentito ogni tanto per abbindolare più persone. Si spacciava all'inizio per qualcuno che non era. E mentiva su presunte azioni divine che gli avevano salvato la vita. Ma il punto è che dentro la sua testa c'è davvero l'inferno. E per il momento è condito da belle parole, ma presto uscirà fuori. E sarà quella la vera apocalisse. E a proposito di apocalisse, il tempo passa. E inesorabilmente si arriva al mese di febbraio del 79. Il periodo in cui, diceva Roche, il mondo sarebbe finito. Ma quel mese passa e il mondo ovviamente non finisce. Così i seguaci perplessi chiedono giustamente spiegazioni a Roche. Ma lui ha la scusa pronta. Una scusa di merda ragazzi, ma ce l'ha. Dice che il tempo di Dio è diverso da quello dell'umano. È stata quindi una sorta di errore di calcolo. Cioè, è sicuro che il mondo finirà, ma dato che noi e Dio abbiamo tempi diversi, non sa quando accadrà. È davvero assurdo quello che dice. E infatti molti cominciano a farsi venire dei dubbi sulla sua buona fede. Ma anche Roche dubita di tutto e tutti. E per questo inizia a rispondere a questi dubbi. Con la violenza. Ha il timore che questa gente se ne vada e che lo lasci da solo con le sue paturnie mentali. Ma sarebbe inaccettabile per lui. Sarebbe la sconfitta peggiore della sua vita. Ha bisogno di comandare. Di avere dei sottoposti. Quindi cosa fa? E purtroppo fa delle cose orribili. Nel timore di perdere questo suo piccolo impero, diciamo, in un modo tutto suo, sposa tutte e nove le donne della setta. E le mette incinta tutte e nove. Impone anche delle regole a dir poco dittatoriali. Per esempio, nessuno può parlare in sua assenza. Ed è severamente vietato andarsene dalla setta. Anche se lui non l'ha mai definita setta, ovviamente. Comunque chi viene beccato anche solo a pensare a una fuga, riceve una punizione, ragazzi, allucinante. Roche avrebbe colpito il trasgressore con una cintura o un martello. Poi lo avrebbe sospeso al soffitto e avrebbe stappato a mani nude ciascun pelo del corpo o addirittura ci avrebbe defecato sopra. E questo non è niente. È solo l'inizio. L'uomo sviluppa una vena maniacale per le punizioni brutali. Nel 1981, per esempio, fa una cosa davvero orribile. Praticamente apre letteralmente in due il membro di un povero bambino di due anni che faceva parte della setta. Dio mio. Il motivo per cui l'ha fatto è molto semplice. Nella sua testa. Il bambino aveva difficoltà a fare la pipì e questo in qualche modo non andava bene a Roche. Ma il bambino ovviamente, dopo questa disgustosa operazione, non smette di piangere. Allora cosa fa il leader? Ordina a un altro suo seguace di prenderlo a pugni. Questa è la prima vittima del culto. Perché purtroppo questo bimbo morirà a causa delle troppe ferite. Roche cerca in tutti i modi di nascondere questa morte. Anche ai membri stessi. E arriva persino a bruciare il cadavere. Sembra però che non ci sia riuscito e ha quindi deciso di seppelirlo lì vicino, ma comunque di nascosto. Come ulteriore punizione insensata però, Roche castra il seguace che aveva picchiato il piccolo e ordina agli altri di dire che era stato calpestato da un cavallo. Inizia davvero a diventare una situazione a dir poco atroce. In qualche modo, comunque, questo intero episodio non passa inosservato agli occhi della legge. La setta, come vi ho detto, fa un certo anno di rivieni dai paesi per vendere dei prodotti. Quindi, molto probabilmente, hanno iniziato a circolare delle voci. Magari qualcuno della setta si è accorto che un bambino di loro era scomparso e ha avuto dei dubbi. Quindi l'ha raccontato a qualcuno del villaggio. Ma è solo una mia ipotesi. A quanto pare, il bambino di due anni aveva problemi mentali, non riusciva a capire determinate cose ed è per questo che quel giorno ha avuto difficoltà a fare la pipì. Così la polizia interviene e riesce a fare qualcosa per questa assurda situazione. Fanno irruzione nel complesso e scoprono il corpo carbonizzato del bambino di due anni. Roche, Theriot e altri otto vengono subito arrestati. L'intera storia potrebbe finire qui. Si aveva in pugno il responsabile di un culto folle che stava facendo un male atroce a tutti quelli che lo seguivano. È colpevole di manipolazione, di omicidio e coercizione. Ma ragazzi, non riesco a spiegarmi come ma Roche e gli altri sono stati tutti rilasciati. Tutti. La cosa terribile è che da qui in poi le punizioni di Roche nei confronti dei membri aumenteranno. Toccheranno vette di disgusto e orrore che farebbero impallidire veramente chiunque. Ma almeno una cosa buona la legge l'ha fatta. Hanno preso in custodia i pochi bambini che vivevano lì con la setta. Ma tanto lui, furbamente, se ricordate, aveva già messo incinta quelle nove donne. E da loro farà nascere più di venti figli. La nuova setta è pronta a tornare più forte e disgustosa che mai. Questa ragazzi è la parte peggiore del video, ve lo dico già. Da qui in avanti si toccherà davvero il fondo quindi preparatevi. Roche, visto che è stato già schedato dalla polizia, furbamente si trasferisce in un altro luogo con il resto dei suoi seguaci. Fondano un nuovo rifugio vicino a Burnt River, nell'Ontario. Oltre alle sue mogli e i bambini, qualche altro adepto adulto decide di seguirlo anche dopo il carcere, anche dopo quelle violenze e anche dopo la presa per il culo della fine del mondo del 79. In questo nuovo luogo, comunque, i suoi adepti si mantengono in vita producendo sciroppo d'acero, conserve, pane e pesce affumicato. Ma sono soprattutto i bambini a lavorare, perché sono loro la maggioranza della popolazione della setta. E Roche, guardandoli, li paragona alle formiche che lavorano su un formicaio. Ed è così che nasce il nome The Hunt Hill Kids. I bambini del formicaio. Loro poverini, essendo nati in quel contesto così isolato, non conoscono praticamente niente del mondo. Non sanno che il loro padre in realtà è una persona orribile. Anzi, è oggettivamente un mostro. E da questo punto in poi, inizia pure a bere. Beve così tanto da diventare ancora più violento e ancora più affamato di potere. È qui che viene fuori tutta la sua natura ammalata e perversa. Inutile dirvi che all'interno dei The Hunt Hill Kids, non sono ammesse cure mediche di alcun genere. Infatti escono fuori non pochi problemi di salute. Ma Roche prende questi problemi come atti di debolezza e poca devozione nei suoi confronti. Quindi per rafforzare i loro spiriti, organizza delle lotte che chiama Tornei dei Gladiatori. Durante questi tornei, in sostanza, il mostro costringe gli adepti, vi ricordo quasi tutti i bambini, a combattere su un ring sporco. Forse lo fa per temperarli o forse per sottometterli ancora di più a livello psicologico. Questo perché Roche, anche a causa del bere, diventa sempre più paranoico, sempre più preoccupato di restare solo. Cioè vive questa contraddizione. Prova a spiegarvela. Usa violenza per ottenere il controllo. Ma pensa che i suoi adepti vogliano sfuggire al suo controllo. E per rimediare, usa ancora più violenza. È un controsenso incredibile, ma se ci pensate, è tremendamente plausibile. Così comincia ad usare sempre più oggetti affilati, e non solo, contro chi crede essere un disertore. Una volta persino, chiede alle sue formichine di dimostrare la loro lealtà. Come? Ecco, rompendosi le gambe con delle mazze. Ovviamente questa non è una richiesta, è un ordine. E i membri sono obbligati a farlo. Inoltre, comincia a dar loro tutta una serie di ordini davvero raccapriccianti. Ordina di sedersi su delle stufe accese, a volte anche di spararsi dei colpi di pistola a vicenda sulle spalle, oppure di spalarsi addosso le reciproche feci, o ancora mangiare topi morti e tagliarsi le dita dei piedi. Come se questo non fosse già troppo, Roche vuole assicurarsi di avere sempre dei nuovi seguaci. Così, abuse in modo intimo degli adepti. E a questo punto è probabile che abusasse anche dei piccoli, oltre che delle donne lì presenti. Se qualcuno di loro non accetta questi abusi, lui li costringe a mangiare le proprie feci. Sembra che Roche si sia fissato su determinate cose, tutte disgustose, per esempio le feci, la violenza intima, la perdita di arti, il sangue, e tutte cose così. Queste sono diventate le vere basi della sua setta. Ha completamente rimosso quello che professava un tempo, e ha completamente cancellato anche dalla testa dei suoi seguaci tutte le belle parole di ugualianza e salvezza. Adesso si vive in un regime di terrore. Una comunità dentro cui si deve sempre e in ogni momento obbedire a Roche, senza obiezioni. Anche i bambini a questo punto vengono puniti praticamente senza motivo. Sappiamo che alcuni di loro venivano frustati, e se qualcuno in quelle occasioni si fosse comportato male, Roche lo avrebbe letteralmente inchiodato ad un albero e avrebbe costretto gli altri bambini a lanciargli dei sassi addosso. Questo ragazzi non si è visto neanche nei peggiori film horror, cioè davvero. Proprio per via del comportamento tirannico e violento del leader, una sera durante una bufera di neve accade una cosa particolare. Una madre mette fuori dalla capanna il suo bambino appena nato. Probabilmente per evitare che durante uno sfogo Roche se la prendesse anche con lui. Ma questo bambino muore per il freddo. Si tratta di un'ulteriore tragedia che porta la setta ancora una volta sotto i riflettori. E con riflettori intendo polizia. La morte di quel bambino appena nato, dovuta a un gesto estremo di disperazione, porta all'apertura di un'altra indagine. In seguito alla quale, nel 1987, 14 bambini vengono allontanati dalla setta e assegnati a famiglie affidatarie. Ancora una volta la legge avrebbe potuto smantellare questa organizzazione, arrestare e imprigionare Roche, per tutto il male che stava facendo e aveva fatto. Ma le circostanze portano gli organi competenti a interessarsi unicamente ai bambini, escludendo tutto il resto. E ok, di sicuro hanno fatto bene a mandare via i bambini da quel posto orribile. Sono stati bravi. Ma per il resto non ho parole. Cioè, era ovvio che anche gli adulti fossero in qualche modo abusati, picchiati. Cioè, vabbè, comunque. Ancora una volta Roche vede i suoi adepti dimezzarsi, arrivando a contare solo due uomini e otto donne. Dopo l'allontanamento dei bambini, Roche è fuori di sé. Tutti i suoi peggiori incubi si stanno avverando, e avendo zero umiltà, non se la prende con se stesso, ma con gli ultimi adepti che ancora lo seguono. L'alcol gli dà la testa, e lo devia così tanto da fargli credere di essere un medico in grado di guarire miracolosamente ogni problema di salute. Per esempio, una sera, mette un elastico intorno ai tetticoli di un seguace. Lo scoto di questo povero disgraziato si gonfia e si infetta dopo circa otto ore. Roche quindi rimuove il testicolo e cauterizza la ferita con un ferro caldo. Cazzo. Ma purtroppo, non è ancora finita. Nel settembre dell'88, completamente a caso, Roche ordina a una certa Solange Boilard, un'adepta, di salire sul tavolo della cucina. Poi la spoglia nuda. All'inizio di questa giornata, Solange si era lamentata di un mal di stomaco. E come soluzione barra punizione, Roche la prende a pugni nello stomaco. Poi le infia un tubo di plastica nel sedere e esegue un clistere con melassa e olio d'oliva. Poi pratica un'incisione sul lato dell'addome ed estrae una sezione dell'intestino a mani nude. Poi scappa un pezzo di intestino e rinfila il resto nell'addome. Dopodiché, ricuce tutto. Forse è scontato dirlo, ma devo specificare che tutto questo processo è stato fatto senza anestesia. Io non oso davvero immaginare il dolore che questa povera donna ha sentito. Si sarà sentita morire, o comunque a un certo punto avrà chiesto di morire. Invece è rimasta viva e in agonia fino al giorno successivo. Poi purtroppo il suo corpo non ha retto. Il suo intestino era distrutto, cioè ha sofferto così tanto solo perché aveva detto di avere mal di pancia. Ci rendiamo conto? Ma ovviamente Roche non dà troppo peso alla cosa. Ormai non è disposto a dare troppa importanza alle sue formichine. Ormai è così fuori di testa da convincersi di altre cose ancora più folli. Adesso Roche si convince di avere la capacità di resurrezione, cioè di far risuscitare la gente. Un giorno quindi ordina ai suoi adepti di rimuovere le parti intime dell'ormai defunta Solange e buccare una parte del suo cranio. Poi ordina agli uomini di ericulare nel suo cervello. Nel cervello di Solange che era morta, cioè... Ovviamente partecipa anche lui a questa sorta di rito malato e tutto questo, dice, sarebbe servito per riportarla in vita. Quando ovviamente la defunta Solange non torna in vita, Roche ordina di seppellirla. Prima che lo facessero però, rimuove una delle sue costole e la tiene in una custodia di pelle intorno al collo. Non so, forse per ricordo? Forse per tenerla come trofeo, souvenir? Non lo so. È davvero un comportamento fuori dalla realtà. Ma non abbiamo ancora finito. Nel novembre dell'88, un'altra adepta, una certa Gabrielle Lavallée, lamenta di avere mal di denti. Non l'avesse mai fatto. Roche risponde strassandole otto denti con delle pinze. Poi chissà per quale motivo, più tardi quella notte, la insegue con un coltello e le taglia il tendine di una mano, così. Dopo mesi poi, nel luglio dell'89, decide anche di impalarle la mano sul tavolo della cucina, dopo che si era lamentata della sua rigidità. Si era lamentata perché lui le aveva tagliato il tendine. Per questo era rigida. Michele piaceva lamentarsi, anzi. Comunque Roche capisce che, anche in questo caso, le sue soluzioni non funzionano. Così decide direttamente di toglierle tutto il braccio. Afferra una mannaia e la colpisce. Il dolore chiaramente è insopportabile e c'è sangue ovunque. La donna giace in agonia sul pavimento della cucina, finché non le viene ricucita la ferita. Operazione che avverrà solo la mattina seguente. È stata per tutta la notte ad urlare e soffrire in cucina. In vari siti, però, la faccenda di questa adepta è raccontata in maniera differente. Bene detto che, in realtà, la Vallée è stata sottoposta ad un trattamento ancora peggiore. Aveva delle ustioni da saldatrice alle parti intime, poi aveva un ago ipodermico spezzato dentro la schiena e otto denti le erano stati rimossi con la forza. A quanto pare, poi, questa la Vallée, una volta, ha tentato di fuggire. E l'ha fatto dopo che Roche le aveva tagliato parti del seno e le aveva fracassato la testa con il lato smussato di un'ascia. Non si sa perché, ma non è riuscita a scappare. E come punizione, il mostro le ha rimosso un dito con delle tronchesi e le ha poi inchiodato una mano. Cioè, madonna. Dopo questo, sarebbero successe le cose di cui vi ho parlato prima nella prima versione dei fatti. Le cose che hanno portato all'amputazione del suo braccio. Quindi, questa povera crista aveva tantissime ferite sul suo corpo. E forse anche per questo è stata una delle poche, se non l'unica, a voler davvero scappare. E il 16 agosto dell'89, fortunatamente, riesce a fuggire definitivamente. Questa volta non ha la minima intenzione di farsi catturare. Ferita e senza un braccio, distrutta emotivamente ed eroica come pochi, fa l'autostop fino a un ospedale a nord di Toronto. Viene medicata d'urgenza e viene subito avvisata la polizia. Da qui, tutta la verità circa la setta viene divulgata al mondo intero. Lavallée non avrà più un braccio, ma è stata bravissima a sfuggire dagli orrori mentali e fisici di Roche, che nel frattempo viene arrestato e processato. La setta The Hunt Hill Kids viene ufficialmente sciolta. Le autorità sospettavano da tempo sul culto di Roche, specialmente a causa delle condizioni di vita particolarmente primitive dei suoi membri. Ma poiché quella setta non era mai stata chiamata così, anzi era persino registrata legalmente come chiesa, i funzionari non erano autorizzati ad indagare sugli adulti e non potevano fare molto se non garantire il benessere dei bambini. Il che comunque non spiega la poca sensibilità della legge nei confronti degli abusi di Roche. Ma comunque, lui viene dichiarato colpevole di aggressione e riceve una condanna a dodici anni di reclusione. Già, dodici anni. Ma solo perché viene condannato solo per l'aggressione di Lavallée. La stragrande maggioranza dei seguaci del culto, tuttavia, adesso, abbandona il leader. Ma lui, non chiedetemi come, durante la sua prigionia, ha fatto altri quattro figli con le donne rimanenti. E il tutto durante le visite coniugali. Cioè, come cazzo? Cioè, quando? Comunque, la testimonianza della vittima a Lavallée ha consentito ulteriori indagini sulle azioni malsane di Roche, mettendo nero su bianco tutti i suoi crimini. Nel 1993, Roche Theriot si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado per la morte di Solange Boylard ed è stato finalmente condannato all'ergastolo. Nel 2000 è stato trasferito al penitenziario di Dorchester, una prigione di media sicurezza. Poi, nel 2002, gli è stata respinta la libertà condizionale, poiché è considerato ad alto rischio di recidività, in altre parole non vogliono liberarlo perché potrebbe fare ancora del male. Da quel momento non ha mai più presentato la domanda. E niente, Roche è irrecuperabile, oltre che intrattabile. E sicuramente qualcuno in carcere se ne sarà accorto, perché molti anni dopo, il 26 febbraio 2011, all'età di 63 anni, Roche Theriot è stato trovato morto vicino alla sua cella. Si ritiene che la sua morte sia il risultato di uno scontro con il suo compagno di cella, un certo Matthew Gerrard McDonald. Matthew era un sessantenne condannato per omicidio e dopo i fatti si è dichiarato colpevole di aver ucciso Roche. È stato quindi condannato all'ergastolo per la seconda volta. L'uomo aveva pugnato Roche al collo con un coltello. Poi era andato alla postazione delle guardie, aveva consegnato l'arma e aveva detto Quel pezzo di merda è giù al poligono. Ecco il coltello, l'ho fatto a pezzi. Così finisce la violentissima vita di quest'uomo. Finita come in molti pensano, in un modo che meritava. Il film del 2002, Savage Messiah, descrive i crimini di Roche Theriot contro i suoi seguaci e il seguente ricorso legale. Gabrielle Lavallée, la vittima senza più un braccio, ha scritto un libro di memoria riguardo la sua vita nella setta. Lo ha intitolato L'Alliance de la Brébie, ovvero Alleanza delle Pecore. E molto probabilmente si è sentita così, una pecorella smarrita, abbindolata da un mostro senza scrupoli, con estreme manie di grandezza. Io sono a dir poco allibito da questa storia. E voi? Cioè, vi aspettavate questa crudeltà? Poi stranissimo che non se ne parli quasi mai. Almeno io non avevo mai sentito parlare di questa storia. Fatemi sapere ovviamente tutto quello che pensate. Intanto, ai pochissimi fedeli che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una vicenda agghiacciante avvenuta in Spagna. Una vicenda che ha ispirato uno dei film più spaventosi degli ultimi tempi. A detta delle persone io non l'ho trovato per un cazzo spaventoso, però tutti dicono che fa paura tantissimo, quindi vabbè. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Adesso vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!